Omaggio ad uno dei talenti più puri della letteratura mondiale, lo scrittore italo-americano John Fante. E' questo l'obiettivo del concorso letterario che si inserisce all'interno del festival Il Dio di Mio Padre, in programma a Torricella Peligna, in provincia di Chieti, dal 19 al 21 di agosto. Torricella Peligna custodisce le radici italiane di John Fante, nato a Denver nel 1909. Il padre, Nick, muratore di Torricella, come tanti nei primi del Novecento, era emigrato dal meridione in cerca di fortuna negli Stati Uniti. La scelta del festival di dedicare un premio letterario ad un'opera prima e a un autore emergente non è casuale, ma ispirata al celebre personaggio fantiano di Arturo Bandini, l'aspirante scrittore di origini italiane che tenta di farsi strada nella Los Angeles delle anni 30. Un festival arrivata alla sua undicesima edizione che presto potrebbe essere istituzionalizzato dalla Regione Abruzzo attraverso una legge regionale. Io non credo che siano tantissime le iniziative di questa densità, di questa capacità di coinvolgimento e anche di questa capacità di immaginazione che arriva molto lontano rispetto al punto di partenza che è l'Abruzzo. Per questo voglio ringraziare il Comune, il Sindaco, le realtà associative che concorrono poiché questi miracoli sono il frutto di passione, di competenza, di dedizione e anche di attaccamento. E voglio anche mettere in evidenza come questa iniziativa non si determini a New York, ma a Torricella Peligna, dimostrazione che non è vero che essere piccoli significa essere insignificanti quando si ha un messaggio di valore.